È molto difficile dire qualcosa di originale su Silvio Berlusconi in un periodo in cui tutti hanno dei ricordi di un uomo che si è offerto alla comunicazione, alla stampa, alla televisione in maniera così copiosa. Il ricordo che noi possiamo avere qui, da cui studio voi stadio, la mia stessa esperienza personale, quindi non ha nulla di originale, di particolarmente interessante da dire. Mi piace invece parlare della parabola di Silvio Berlusconi sportiva, calcistica, che è anche un po' la sua parabola umana, quella di uno straordinario innovatore, di un presidente che ha cambiato il calcio, di un presidente che ha finito la sua parabola dopo aver toccato un apogeo in maniera invece un po' più anonima, anche discussa se vogliamo, perché Silvio Berlusconi è stato l'artefice di un Milan immenso e irripetibile, diciamola tutta, irripetibile, ma è anche stato un po' la causa di un finale di questa avventura molto lontano da come era iniziata. e quindi ha fatto tanto, nel bene e nel male, se vogliamo, anche delle cose sbagliate, ma forse proprio questa è poi la caratteristica del personaggio, cioè di un uomo straordinario, fuori dall'ordinario, capace di essere sempre sopra le righe, con delle idee nuove, e poi con una parte finale della sua vita invece un po' più conservativa, un pochino meno brillante, meno propositiva, come è normale nella vita di tutti noi. Una cosa che mi piace ricordare di Silvio Berlusconi però è proprio la capacità di innovare. Silvio Berlusconi, se ci pensate, a metà degli anni Ottanta, propose di fare il campionato europeo per squadre. Ecco, se pensate che nel 2021 c'è stato questo tentativo di fare un campionato europeo per squadre, la cosiddetta Superlega, che era nient'altro che poi l'idea iniziale di Silvio Berlusconi di quasi 40 anni prima, ecco, avete la misura della capacità di immaginare degli scenari diversi e nuovi per il calcio, delle frontiere nuove che lui è stato il primo in qualche modo a identificare. Chi è non più giovanissimo come me ricorderà, per esempio, che l'arrivo di Silvio Berlusconi nel campionato di calcio italiano fu devastante a livello economico. Cominciò a immettere delle cifre impressionanti nel calcio e tutti erano colpiti, a volte anche scandalizzati. Ricordo, per esempio, che a un certo punto in un'intervista Gianni Agnelli, che se vogliamo è stato l'alter ego per tante ragioni, sia il precursore ma anche nella sua diversità, un alter ego di Silvio Berlusconi, Gianni Agnelli disse se posso dare un consiglio a Berlusconi è buttare meno soldi nel calcio. Perché all'epoca l'uomo più ricco d'Italia, che era Gianni Agnelli, aveva un'idea del calcio conservativa, come era quella di Boniperti, con degli stipendi relativamente bassi, con dei costi relativamente contenuti anche nell'acquisizione dei giocatori. Arrivò Berlusconi e cominciò a comprare, a spendere, a dare denaro a destra e a sinistra. E tutti dicono questo fallirà, farà un buco. Invece lui aveva già capito dove andava il calcio. Aveva capito che era necessario per il grande calcio avere una competizione europea di livello complessivo e globale. Cosa che tuttora fatica il calcio a capire, o meglio, ci sta arrivando faticosamente con Seferin spaventato dalla Superlega. E quel Berlusconi che aveva questo gigantismo, che non era solo di facciata, ma di sostanza, portò una società, in quel momento, quasi anonima, qual era il Milan, che lui aveva ereditato, che veniva da situazioni prefallimentari, da presidenti che dovevano scappare, da un anonimato, diciamo pure, che durava ormai da lustri, ecco, lo ha portato sul tetto del mondo. Se oggi il Milan è il Milan, con tutte le sue contraddizioni odierne, lo deve a Silvio Berlusconi. Quel Silvio Berlusconi che, appunto, ha avuto solo un grande limite, secondo me. Non ha mai saputo immaginare un futuro di tutte le persone che gli stavano intorno, di tutte le entità, di tutte le aziende, privo di Silvio Berlusconi. Cioè, l'erede capace di portare avanti il suo piano, per esempio, nel Milan, non c'è stato. Non c'è stato nei figli, non c'è stato nel manager. Silvio Berlusconi ha venduto il Milan in maniera un po' frettolosa, anche in maniera molto discutibile, forse, no? Un anonimo cinese che non si sapeva da dove venisse. E in questo punto c'è l'unico limite della sua attività imprenditoriale, forse anche politica, dove, ecco, l'ultimo decennio di Berlusconi non è stato sicuramente all'altezza di tutto il resto della sua vita. Ma lo si deve perdonare questo, ripetiamo, perché un uomo che supera ampiamente i 70 anni, diciamo che dai 77 in poi, l'ultimo decennio di Berlusconi, è stato un lento declino, che poi è stato discusso in vari modi e che non stiamo qui adesso, puoi entrare nel dettaglio per analizzare. Però, ecco, quello che lascia Berlusconi è un patrimonio importante. È un patrimonio, secondo me, calcisticamente rilevantissimo. Abbiamo capito che il calcio aveva delle potenzialità e tuttora conserva delle potenzialità enormi, al di là dei semplici 90 minuti della partita. Abbiamo capito che Milano può essere un formidabile centro di sviluppo per il calcio italiano e mondiale, che si chiama Inter o che si chiama Milan. E abbiamo capito anche che si può fare impresa intorno al calcio rendendolo un'attività redditizia. Voi direte, beh, non è stata redditizia per il Milan perché Berlusconi ha messo parecchi denari nel Milan. Sì, li ha investiti, non li ha spesi. Berlusconi, anche attraverso il Milan, ha avuto una notorietà, una capacità poi di avere un ritorno politico che a lui interessava di grandissime dimensioni. Berlusconi, con i successi del Milan, si è accreditato come un vincente al di là dei successi già straordinari che aveva avuto nella sua attività televisiva. Che eredità lascia? Beh, intanto lascia il Monza, che ovviamente adesso dovrà immaginarsi un futuro senza i finanziamenti di Berlusconi. È stato l'ultimo giocattolino, se vogliamo, rispetto a quello che era il Milan. Ma certamente un manager come Adriano Galliani sarà in grado di dare comunque un futuro anche alla squadra Brianzola. Non dimentichiamo che il Monza comunque in Serie A adesso accede a una serie di anche finanziamenti, di contributi televisivi e non che gli consentiranno di arrivare comunque ancora a lungo, a traguardi importanti. L'ultima cosa che voglio ricordare di Berlusconi è quando è stato qui da noi. Io non ho mai avuto un rapporto particolarmente diretto, nel senso che non mi ha mai interessato praticare e bazzicare l'ambiente Mediaset. Però Berlusconi faceva una cosa molto carina per noi, per Tele Lombardia, e cioè iniziava tutte le sue campagne elettorali da Tele Lombardia. E la sua cortesia, la sua disponibilità, il fatto che con qualunque giornalista lui si confrontasse avesse lo stesso rispetto, attenzione e delicatezza anche nel trattarlo, cosa non comune soprattutto nel mondo del calcio, mi fa ripensare alla famosa volta in cui venne da noi e parlò di Balotelli e alla mia domanda su Balotelli al Milan rispose clamorosamente, lasciando tutti con la bocca aperta, Balotelli è una mela marcia, io non lo voglio nel mio spogliatoio, salvo poi comprarlo su richiesta di Galliani un mese dopo. E l'anno dopo, due anni dopo, quando tornò a Berlusconi già un po' più stanco di quello che era venuto prima, io andai da lui e dissi, presidente, ci fa due battute sul calcio, visto che qui, lui era ancora presidente del Milan, e lui mi rispose no, questa volta lo scoop non te lo faccio fare, con un sorriso affettuoso, amichevole, che non dimenticherò. Ecco, questo è un piccolo ricordo in più tra i tanti più importanti che avete sentito in questi giorni e come si dice sempre in questi casi, che la terra gli sia lieve.